ritorno a video registrato questa settimana per cui niente live a quanto pare qui sui monti con annette la connessione non è che sia proprio così idilliaca magari è una buona occasione per vedere se questo formato quello registrato magari è un po più apprezzato in termini di followers per parlare all'inglese rispetto alla versione live devo premettere che a parte svezia trovare dei riz buoni o comunque anche solo trovare dei riz in generale nei paesi scandinavi è stato un bel processo di ricerca oggi per cui capirete che rizza le orecchie si sarebbe potuto tranquillamente intitolare rizza le orecchie svezia per cui orientare solo verso quel mercato però ti spiego tutto subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io come sempre sono pasquale questo è io risparmio il canale del vostro investitore risparmiatore della porta accanto oggi torniamo a parlare dei miei investimenti riz anzi delle mie watch list in riz senza live ma con un video normale registrato come dicevo prima devo dire che ho incontrato non poche difficoltà ad andare a cercare trovare dei fondi immobiliari che non fossero solo svedesi gli altri paesi della scandinavia non sono molto dotati di riz sicuramente anche sicuramente a mio parere per una conformazione del territorio geografica in ogni caso andiamo al pc che vi spiego la faccenda fiordo per fiordo partiamo dalla prima azienda dell'otto ovviamente come dicevo prima svedese torsland property investment che è questa azienda che possiede appitta proprietà che sono praticamente residenti a gotteborg per cui è molto ma molto concentrata quello che vedrete in queste presentazioni è che molto probabilmente dovuto anche alla conformazione geografica del territorio la maggior parte delle proprietà sono solo nei grossi delle grosse aree urbane proprio perché appunto il territorio dei paesi scandinavi è piuttosto frastagliato facevo la battuta dei fiordi fiordo per fiordo ma in realtà la motivazione è prettamente quella salute finanziaria che come tutti gli investimenti di tipo immobiliare ha tantissimi asset sul lungo periodo ma non sul brevissimo è una situazione finanziaria che come si può vedere è stata più o meno sempre sulla lama del rasoio che in questo ultimo periodo ha cominciato un po a migliorare dividendo in questo caso del 4 66 per cento ovviamente con doppia tassazione con una copertura del dividendo del solo 16 per cento per cui è un'azienda che ha prospettive diciamo di avere un dividendo continuo nel tempo andiamo a vedere solo qualche numero proprio qui giusto per dare delle dei numeri un po veloci ovviamente come sempre faccio questi video molto in linea generica perché questi paesi sono parecchio difficili da analizzare e vorrei che diciamo stuzzicare solo la vostra curiosità poi dovreste se vogliono andare a profettire i numeri comunque torslanda possiede gestisce fitta indirettamente un totale di otto proprietà per cui sono pochissimi situati a gotte borger il valore immobiliare ammonta 2 miliardi e mezzo di corone svedesi ed è affittata al 99 per cento per cui comunque gli affitti continuano ad entrare in maniera costante gli immobili hanno una superficie affittabile di circa 173 mila metri quadri e sono costituiti principalmente da locali ad uso ufficio seconda azienda di questo video è Bosgio Fastiker che è un'azienda che va a investire in Svezia in questo caso è ancora più concentrata una market cap di 150 milioni di corone svedesi piccolissima unica proprietà adesso andiamo a vederla anche però se si va a guardare la salute finanziaria è un'azienda che ha una disponibilità economica in short term che è maggiore a quella della propria market cap per cui cosa altamente interessante se si volesse insomma andare ad analizzare questa azienda che ha un dividendo tra l'altro molto interessante un 11 80 per cento con una copertura dei earnings e il solo il 12 per cento e qui si comincia a notare un pattern almeno per le prime due delle prime due aziende che stiamo vedendo con una copertura del dividendo che è ampia perché solo una piccolissima porzione degli earnings viene utilizzata per il pagamento del dividendo la proprietà in questione è un'unica sola e si tratta di questa che si trova nel colume di Boros e l'inquilino del Dello Group è una proprietà enorme che comprende 94 mila metri quadri di superficie affittabili i cui locali logistici comprendono 70 mila metri quadri e poi c'erano tre modelli uffici che comprendono 24 mila metri quadri è una proprietà non completamente utilizzata perché permette anche adattamenti possibili e possibili espansioni ed è appunto un edificio logistico tra l'altro come dice qui due degli uffici sono stati oggetto di un'ampia ristrutturazione ed ammodernamento nel 2016 nel 2017 per offrire appunto ai dipendenti di Elos un ambiente più moderno e più attraente per i visitatori Elos è stato fondato a Boros qui ci viene anche detto che è Elos Group ed è un leader nell'e-commerce per la moda e l'arrenamento nella regione del nord Europa e per cui è un'azienda che va a vendere in tutta la Scandinavia proprio tramite questi uffici logistici e che sono di proprietà di Boschium ovviamente scarsissima diversificazione geografica scarsissima diversificazione per numero di clienti è solo una proprietà azienda altamente rischiosa con un dividendo che però è molto interessante terza azienda dell'otto Atrium Bloomberg è anche questa azienda svedese anche perché ve l'ho detto praticamente quasi tutte sono svedesi dovete finanziare anche questa come al solito classico Ritz con però una situazione patrimoniale leggermente migliore di quelle che abbiamo visto fino adesso praticamente dal 2020 l'azienda a parte la decrescita avuta per la crisi pandemica non ha mai avuto problemi debitori anzi la forchetta sembra piano piano andarsi ad ampliare fra le asset e la questione debitoria dividendo invece molto più basso rispetto alle altre un 2 50 per cento di yield che però è in costante aumento e anche in questo caso si continua a vedere il pattern della copertura ampia del dividendo con un solo 18 per cento di earnings dedicati al dividendo cosa molto ma molto interessante in questo caso l'azienda è molto più ampia perché ha circa 1,1 milioni di metri quadrati per un valore di 52 miliardi di coloni svedesi concentrati in tutte le principali città della Svezia Stoccolma, Gothenburg, Malmo e Uppsala sono proprietà costituite principalmente da uffici e immobili commerciali ma includono anche retail per cui ristoranti, alloggi, servizi e cultura. La società immobiliare possiede anche dei terreni e delle costruzioni che sono molto importanti perché secondo l'azienda possono essere dei investimenti per fare crescere l'azienda in futuro inoltre sviluppano e gestiscono le proprietà in maniera autonoma questo in modo da venire in giallo incontro alle necessità dei futuri clienti, acquistano proprietà e terreni dove possono pensare di avere dei vantaggi strategici per cui un forte potenziale di sviluppo e poi ovviamente sono anche una serie di foto relative alle varie costruzioni e vi lascio ovviamente andare a guardare per curiosità. Altra azienda nel gruppo svedese anche questa credo che sia l'ultima ce ne sono un altro paio dopo Is9, saluti finanziari da Classico Erizia in questo caso gli asset rispetto alla market cap è più o meno un quarto anzi un quinto per cui da tenere in considerazione nel caso in cui questa azienda volesse essere analizzata e volesse essere aggiunta al proprio portafoglio dividendo del 2,60% anche questo un dividendo più basso rispetto alle prime due che abbiamo visto con una copertura del dividendo del 9% e qui continua a vedersi quel pattern della copertura del dividendo molto ampia in questo caso però un dividendo che come si può notare è in forte crescita tra l'altro qui voglio farvi anche vedere il grafico della salute finanziaria e si può vedere che la forchetta in questo caso sta leggermente restringendo per quanto riguarda la differenza fra debito ed equiti. I progetti e le proprietà di Is9 non si trovano però in Svezia e infatti questa è una cosa che mi ha colpito quando stavo guardando questa azienda perché si trovano in Lettonia e Lituania principalmente al Vilnius e a Riga non Riganello come me a Riga. le proprietà sono queste qui che potete vedere in questa presentazione e inoltre volevo farvi vedere anche in maniera un po' più approfondita perché l'azienda qui mette anche una bellissima presentazione delle proprie attività. L'81% delle proprietà è certificata e il 26% sono Green per cui ESG. Queste sono le 9 proprietà di uffici all'interno del portafoglio che sono a Vilnius che hanno un valore di 389 milioni di euro e sono l'83% delle proprietà del portafoglio totale di Is9. L'occupancy secondo me è molto bassa rispetto alla media di quello che dovrebbe essere di un lit perché io mi aspetto un occupancy del meno 97% qui abbiamo solo un 93%. Questo significa che l'azienda non è strutturata bene per andare a ottimizzare i propri attritti però è anche vero che ha più margine di crescita. Poi andiamo a vedere le proprietà di Riga che sono queste sono 5, in totale sono 3 uffici e 2 progetti in sviluppo. 81 milioni di euro e in questo caso l'occupancy è ancora più bassa, un 74% che però secondo le indicazioni dell'azienda sta crescendo continuamente. Passiamo alla Callback Property Invest, anche questa svedese ultima dell'otto ce ne sono altre due che non sono svedesi ve lo prometto. Salute finanziaria classica da Ritz che in questo caso ha la particolarità di avere un asset a lungo termine che è maggiore della market cap di circa un 70% credo qui. Dividendo il 5, 83% stabile, in questo caso un payout ratio più alto 41% ma altamente sostenibile perché non è neanche la metà degli earnings e salute finanziaria che andiamo a vedere di nuovo qui con la forchetta fra debito ed equiti che si è allargata in questo ultimo periodo con gli equiti che hanno superato la parte debitoria che come si può vedere è in calo molto lento ma costante nel tempo mentre la parte di equiti sta aumentando piano piano. C'è anche una leggera porzione di cash che male non fa neanche la pancia. In questo caso la proprietà è una sola e praticamente è a Goteborg completamente locata a Saab per cui il produttore automobilistico fino al 31 dicembre 2031 poi o Saab andrà a confermare lease oppure Calle Beck dovrà andare a cercare un nuovo affittuario. L'edificio come si può vedere è stato costruito nel 2002 per cui un nuovissimo originalmente costruito per Ericsson che poi è stata acquistata da Saab nel 2006 per tanto è la stessa organizzazione che ha utilizzato la proprietà sin dalla costruzione. È un immobile composto da una superficie affittabile di 36.000 metri quadri di cui 24.800 adebiti a uffici e 9.600 a laboratori locali produttivi. Poi ci sono 805 posti auto all'interno della proprietà di cui 322 sono al coperto. Ovviamente avendo un'unica proprietà come abbiamo visto per Bosgio la diversificazione è piccolissima i rischi sono maggiori però c'è anche la possibilità che queste aziende piccoline crescano in maniera più semplice rispetto a quelle a più grosse diciamo che sono un po' più i casermoni bisognerebbe approfondire molto il mercato. Io personalmente così come ho detto in altri video in particolari mercati preferisco andare per ETF però mi piace sempre continuare questa mia continua scoperta di RITs del mondo dell'immobile immobiliare perché è un mondo che mi affascina tantissimo. Usciamo dalla Svezia e andiamo in Finlandia che notoriamente non ha dei grossi spazi per andare a investire. In questo caso cosiamo oggi a un market cap di 5,4 miliardi di euro e si occupa in particolare di residential private per cui delle costruzioni residenziali che vanno a provvedere appunto l'affitto di appartamenti in Finlandia. Financial health ottima 8 miliardi e mezzo di asset contro i 5 miliardi e mezzo di market cap e infatti anche qui dalla schermata della salute finanziaria si vede come diciamo la forchetta si vada piano piano ad ampliare per quanto riguarda gli asset rispetto alle massività. Un dividendo bassissimo 1,75% con un dividendo che è praticamente in crescita molto costante è solo 9% di payout ratio e da notare come rispetto a molte altre aziende europee i paesi scandinavi tendano ad avere un dividendo con un payout ratio bassissimo. Se uno puntasse a questa azienda solo per il dividendo potrebbe vedere che più o meno potrebbe essere considerato come un dividendo abbastanza sicuro nel tempo. Per quanto riguarda la strategia di investimento l'azienda ha la sua strategia di andare a investire fra i 200 e i 400 milioni di euro per anno. La maggior parte degli investimenti sono allocati nello sviluppo di nuove proprietà o nella conversione di proprietà residenziali che vengono poi acquisite, messe a posto e riandate a mettere sul mercato come proprietà appunto da affittare. L'azienda si va ad orientare verso una crescita futura multichannel per cui vada ad ampliare le proprie prospettive di crescita su diverse tipologie di investimento. Al momento l'azienda come dice qui la presentazione sta investendo per sviluppo di progetti per un importo che va fra i 310 e 360 milioni di euro per il 2021. Per quanto riguarda le business operations possiamo anche vedere qui finalmente un sito in inglese. Cosiamo è la più grande azienda finlandese in termini di private residential real estate investment per cui è la più grande azienda finlandese che investe nel residenziale. Come dicono loro qui in Finlandia il business del residenziale è altamente competitivo, lo spazio è quello ed è fortemente rammentato. Come dicono qui e come dice anche alla fine i maggiori competitors di Cosiamo sono privati, non sono quotati in borsa per cui hanno delle diverse tipologie di gestione delle aziende e questo da questo punto di vista almeno quello che si può cercare di capire è che questa azienda ha dei vantaggi maggiori rispetto ai competitor privati perché ha una quantità di denaro maggiore a disposizione e in ogni caso potrebbe andare a rifinanziarsi con obbligazioni o con nuova emissione di azioni per andare ad acquisire nuovi immobili. L'ultima azienda dell'otto Olavton è Aiden Omelscap che è un'azienda norvegese per cui abbiamo aggiunto anche la Norvegia che investe sia in Norvegia che in Svezia. Salute finanziaria alta, la quantità di asset è il triplo della market cap in corone norvegesi. Salute finanziaria in questo caso ottima perché praticamente dal 2017 l'azienda ha cominciato ad ampliare la forchetta fra debito ed equiti dal punto di vista dividendo 6,91% con una copertura del 32%, diciamo la seconda più alta, è l'unica cosa che fa un po' storcere in nazzo e rispetto alle altre che abbiamo visto fino adesso il dividendo non è stato costante ma ha avuto questa battuta d'arresto per poi essere ripreso intorno al 2021. Cosa da tenere in considerazione anche perché anche in Italia questo è successo però se uno cercasse un costante pagamento del dividendo molto probabilmente questa azienda in periodi particolari potrebbe sospenderlo, giusto per sapere. Il portafoglio immobiliare di Olofton è per il 77% distribuito su centri commerciali e per il 23% su proprietà commerciali. Per quanto riguarda la diversificazione geografica il 42% è nella regione di Oslo in Norvegia, il 20% in altre regioni metropolitane della Norvegia, il 31% nelle regioni urbane della Norvegia e infine un 7% in Svezia. Una locazione che rendeva circa 3 miliardi e 250 di corone norvegesi è un tasso di disoccupazione perché non hanno detto l'occupation invece del 4% circa per cui hanno un 96% di occupancy. Le proprietà sono state vuote fra il 2 e il 4% nello stesso periodo stabilmente e poi a cavallo dell'anno il gruppo possedeva e comprende anche delle joint venture. Includendo le joint venture l'azienda possiede 147 immobili per una superficie totale affittabile di 1 milione e 803 mila metri quadri. Il gruppo inoltre possiede importanti aree di parcheggio, apprezzamenti di terreno che consentono anche lo sviluppo in progetti futuri. Bene, torniamo al mio brutto faccione perché abbiamo parlato tantissimo. Ed eccoci ritornati faccia a faccia, come dico spesso andare ad analizzare mercati che sono un po' meno conosciuti o comunque meno liquidi, soprattutto i nicchi di settori di mercato come questa, i RITS, quindi quelle ben specifiche, possono essere oggettivamente complesse da portare avanti in termini di analisi. Ma spero sempre vivamente che questa mia rubrica che ha pochissime views e pochissimi rendimenti economici faccia tanto piacere alle persone che come me condividono la passione per questo mondo fantastico e affascinante che è quello dei RITS. Per cortisie ti chiedo di farmi sapere nei commenti qui sotto se hai già conoscenza di alcune di queste aziende o se magari ne avevi una o più di una nella tua watch list personale. E poi ovviamente se questo video è stato di tuo rendimento ti chiedo la cortesia di supportarmi con veramente pochissimo, ti basta semplicemente lasciare un bel pollice in su per farmi crescere su questa piattaforma e per far capire all'algoritmo di YouTube che anch'io sono qui intorno. A te costa un attimo ma ti posso assicurare che per me significa un fiordo, ehm il mondo. Poi se sei nuovo su questo canale ti chiedo come sempre la cortesia di iscriverti e di cliccare la classica campanella delle notifiche così che tu non debba perdere o rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti, dirti arrivederci e ci vediamo a un nuovo video. Ciao! 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 Grazie.